Hanno fatto incazzare le persone sbagliate. Spero che voi tutti capiate che non volevamo farvi del male. Qualche voglia di qui! Non hai scelta? Tu ti unirai a noi e insieme andremo a Washington per trovare la cura. Non importa cosa dicono. Non importa cosa pensi. Tu non sei al sicuro. The Walking Dead, la quinta stagione. Da lunedì 13 ottobre alle 21 su Fox.